Quindi andremo su uno stile un po' romantico e questa acconciatura si potrà fare su varie lunghezze. Per realizzare questa acconciatura avremo bisogno di una spazzola, dei vecchi di cigogna e un ferro. Iniziamo cercando di dare volume sulla parte anteriore. Come prima cosa prendiamo delle sezioni più o meno di 3 cm e passiamo il ferro all'inzotto. Una volta scaldata la ciocca prendiamo la nostra spazzola e fettiniamo i capelli. Poi con un becco di cigogna ne andiamo a richiudere in sotto. Facciamo questa operazione per tutta la parte centrale della testa. Arrivati a questo punto prendiamo la ciocca e questa volta la mandiamo all'indietro. Grazie. Grazie. Scegliamo dove andremo a fare la riga della nostra acconciatura. In questo caso io la farò alla parte destra. Quindi la parte dove non ci sarà la riga prendiamo la prima ciocca fino all'orecchio. Quindi ciocche abbastanza grandi e andiamo... Prendiamo tutto il resto dei capelli e andiamo a creare una banana. chiudendo tutti i capelli su se stessi. e chiudiamo con delle forcine. Fatto questo andiamo a sciogliere i nostri capelli partendo da questo lato. Dobbiamo lasciare quest'onda che si è creata e andando a puntare dentro la nostra banana il resto della ciocca. Poi passiamo alla parte superiore. Dobbiamo lasciare i volumi che si sono creati e cercare di sfruttare queste onde inserendoli nella nostra banana. Ora sciogliamo e cerchiamo di fargli prendere un po' un effetto onda. in questa maniera. Poi andiamo ad appuntarli. Ho fatto la nostra acconciatura. Abbiamo seguito lo stile un po' anni sessanta. Quindi una cosa molto romantica secondo me. Adesso viene riproposta parecchie volte. Quindi l'importante è creare un po' un effetto leggero. non eccessivo. Ciao per questa acconciatura vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti